Non è bello anche perché quando riguardo la porta, insomma, rivedo questi qua che mi spaccano il vetro con la pistola puntata, insomma, non è stato bello. Ha deciso di riaprire la sua bottega, nonostante siano ancora ben avvisibili i segni della blizza sulla vetrata all'ingresso Fabrizio Santini, l'orafo aretino rapinato lo scorso venerdì. Un colpo messo a segno in pieno giorno in via Caravaggio nel quartiere Giotto, alle porte del centro aretino, attorno alle 15, il primo malvivente a volto scoperto è infatti riuscito a farsi aprire fingendosi un cliente. Lui è entrato, ha chiuso la prima porta perché altrimenti la seconda non si apre e nel momento in cui ha aperto la seconda porta, questa blindata, richiudendo quella di dietro, sono arrivate altre persone incappucciate, hanno spaccato i vetri della porta. Il primo che è entrato mi è saltato addosso, mi ha spruzzato lo spray in faccia e poi uno di questi tre mi ha puntato la pistola intimandomi di aprire la casaporte. Poi uno di questi qua mi ha chiesto dove era il registratore della telecamera e hanno strappato tutti i fili, si sono portati via il registratore e poi alla fine mi hanno buttato per terra, mi hanno legato le mani di dietro e sono scappati tutti. La banda dei rapinatori si è data alla fuga con un bottino di circa 80 mila euro tra oro, pietre preziose e contanti. Il primo che è entrato era sicuramente italiano, un lieve accento meridionale e due erano sicuramente dei paesi dell'est perché si sono parlati velocemente tra di loro. Ho saputo poi da un testimone che il guidatore ha detto agli altri mentre stavano correndo a Munime, insomma in siciliano. Prosegue adesso senza sosta la caccia alla banda, le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile di Arezzo. Al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Credo che il peggio venga ancora tra un po', ancora non mi rendo magari conto, ho ripreso io ieri a lavorare, insomma ho avuto tanta solidarietà, quindi un po' quella ti fa coraggio perché tutti ti appoggiano.